Sì, ok c'è. Bene, ultimo giorno, lo facciamo per divertirvi, esatto, perché tanto abbiamo già dominato, siamo già 7 a 1, Niko è riuscito a spuntarla solo una volta contro di noi. 7 a 2, caro mio. 7 a 2, giustamente, scusa. Dammi almeno queste più attisfazioni. E quindi ultimo giorno, durerà un po' di più il video perché 4 mazzi, di certo non faccio un video 2 a 2, non faccio un video per un mazzo, quindi faremo tutti a 4 i mazzi rimasti. Ho perso io l'ultima. Zia. Contro Blau. Ok, ci può stare, ci vediamo fra poco per il video. Eccoci, quindi Zia contro Blau, Blau che ritorna, Zia che c'è sempre stato, robottoni e alieni, diciamola così. Cos'era Godzilla? Non voglio, Kaiju, un Kaiju, esatto. 2. 4. Quindi inizi tu. Quindi non... Sì che posso fare la mega combo, devo averla in mano, non posso partire con la mega combo? La Womba Combo. La Womba Combo di questo mazzo, vediamo se riesco a tirarla in mano. Un pezzo c'è, vediamo se arriva su anche l'altro. Non cambio nulla. Io cambio 3. Non cambio nulla perché potrei fare peggio. Quindi questo non viene messo qua. Dai, dai, Womba Combo. Niente Womba Combo. Lo schifo proprio. E' tanto, non dico criticata, ma è tanto idiota quanto bella, erognosa. Però se parte, puoi ancora farmela pescare. Vai Nico. Il problema è che sono messo molto cool in realtà, vedendo un attimo la mano. Sì. Sì. Abbastanza, ma abbastanza tanto. Eh, va bene, intanto pesco. Speriamo di non missare, va? Vai. Un attimo, mi sto pescando tutto. Niente, purtroppo mi devo anche giocarlo così e... Vai. Adesso! Adesso! 5 a caso. Vai. Non un pescata prima. Vavo la Womba Combo fatta. Conteniti. Pensa. Hai espulso quello che devi dire? Sì. Perfetto, posso andare avanti. Ride. C'è proprio... Calma. Madonna. Vabbè. Vai. Non passa. A casissimo. Allora. Lui, che non fa partire assolutamente nulla. Ma non sono veramente così male. Madonna, vanga. 1, 6, 1, 9, 4, 13. Non passa. Mi va benissimo. Sono felice così. Mai. Disse lui. Sì, sì, sì. Dove ero... Bello, basta però. Tue vi aumenti di forza. No, come è supportato a 13. 2. Vanguard. Vanguard. Vanguard colpisce pesco. Cinga caso. E un momento ci arrivo. Allora, prima è 3 se non sbaglio. Guardi 3 e prendi mano blau. Posso tenere solo la prima? Sì, se vuoi. Ok. E rimescola però. Quello di mescolare. Soso. Stai manzo. Non vado avanti. Perché siamo... Allora. Non è mai che sono un po' in de cacca. Era da un secolo che non dicevo. Non si sentiva neanche più sta frase. O almeno. Io un po' che non la sento più. Ride. Dopodiché. Mi tocca fare una cosa orribile, ma mi tocca farla. Chiamo. Chiamo sopra. E chiamo sopra. Chiamo sopra. Effetto suo. Ho una carta girata dall'altra parte, non so il perché. Trassone. Ride. Il tuo Vanguard prende meno 3? Uh-huh. Dopodiché ormai senza tramescolare altro faccio Legion. Ah sì. E per effetto suo si spostava fuori questo. Faccio Legion. Se vuoi alzare. Tu sei un meno 3, quindi sei un 8. Un 8, madonna. Sei un 7. Sì. Mi tocca. 11. No. 20. Quale cosa? Vai. Stand. 5. Proviamola. Niente. Ski. Caritato. Non faccio Counter Charge. Non faccio Soul Charge. Vanguard. Vanguard. Sono 11. 12. 12. No. 11. Buon bene. Devo. Ok. Ok. Buon bene. Stride. Uh-huh. Eh, eh, sì No, beh, non hai molte cose però Sì, allora Tu qua Ah Di carte in mano nei poche Quattro Nei poche Eh, non è andata benissimo Sì 16 Vanguard Mi tocca pigliarlo Nada 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 Effetto di Victen Stend E di Dai P5 Esatto, effetto dello stand Lo rimetto Allora attivo Dai a pensare un attimo Un attimo solo Un attimo solo Un attimo solo Non ha senso, no Io posso anche non fare l'effetto di Albarossa, giusto? No, no, è a Counter Blast 1 No, no, infatti Non sono obbligato a farlo No, no, no Però avere una carta in più Non guasta mai Sì Esattamente No, stavendo solo Questo è Counter Blast Vabbè, mai Mille Counter 2, 2, 3 E posso prendere fino a 1 Fino a 1 E deve averla 1 Non c'è nessuno Quindi niente Questo sarebbe, aspetta, un 21 Mi darei meno 4 Non servirebbe a niente Aspetta, aspetta 21 21 Meno 4 Diventerebbe un 17 Anzi sì Allora Attivo l'effetto Di Di Zial Diventa un 17 Attacchi Mi va molto a mezzo Stai degeneration Allora Ho troppo e poco retro Però lo faccio comunque Effetto Meno 11 Tutto l'auto front Ok Quindi sono 0,0 Esatto Detta stretta 4 Uh Caruccio Tocca Caruccio Non l'ho messo così bene Sai che cosa è comunque Un 4 7 No 26 PC E Scarto 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 Andro A caso Vente Stand Eh Lei ha chiedi 5 prima Ok Eh vabbè dai faccio Facciamo che li abbia dati in altra parte Se l'ho detto a caso 12 Non ci ho pensato Già E per giustizia È meglio far così Cambio i dieti quindi Vai Allora Stand Doro Carti in mano 1 2 3 4 5 6 Non proprio così poche Ma neanche così tante Quindi Ci sta E di danni ne ho anche abbastanza Si Posso fare tutto al perk Ti sembra un altro danno Niente 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 Sta passando Posso mettere qua Mi sento un po' così Eh Cosa risveglia tutto giusto Tutto il campo Che sia blau o indifferente Sì sì no La brake poi già Infatti si usa anche in altre cose In tre mazze Allora Facciamo così Tu qua Mh 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 Che tu qua Mh Quindi un po' 14 Quello Si L'altro 9 L'altro 9 Vanguard Ti svilare tutto Se non parte E quando attacca Sì 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 Ma ero Non è l'effetto di Ah no Devo fare anche i Vanguard Ok E da giro a uno Giro a uno Giro a uno E si vede a tutto Ok Ok E io poi ti dico PG Scartando una pescata Niente Niente E il secondo era Indifferentemente S'attacca o meno No A retroguardio Deve colpire Non ricorda Con blau Ok Tu ne hai due Esatto 16 Vanguard No Ging Eh 14 Vanguard Eeeh No così Ok Triad Male Sono messo Però Eh niente Non faccio neanche stride Non faccio neanche far stride Preferisco colpire Questa No anzi Qua 22 Sì 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 Sto un attimo a contare Ciao Niente I Vial Non parte Vai Stand Endodoro Allora Allora Ora Non ricominaccia Il Vanguard Allora Facciamo così Stride Facciamo Uno E una Due Ok Vesto regale Ci sta Eeeh Bambola di creda meccanica C'è un danno Ok Gli stand ce li hai qui dentro È l'unico che è uscito È una sola al momento Quindi si spera Che ne vengano fuori altri Attivare prima l'effetto Sì esatto Sto facendo Calcolando tutto quanto Perché i danni Dovrei avermi rigiati abbastanza Per poter fare Qualcosa Ah ok C'hai anche Vector plasma E ci siamo Ok Quindi tu sei ancora Un Quattordici Vanguard Niente Vanguard Prendo Niente 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 Si spenda Scarta due però Sì Un momento Ci sto arrivando Eeeh Via 1 E via 2 E secondo che ha anche colpito Un Vanguard con blau Nel nome Si spenda E da più 5 Quindi 14 Vanguard Allora Dovrei riuscirci 5 Sì 10 26.000 Vanguard DG Scarto Si attiva l'effetto Stapo danno Niente 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 Oddio, 4 Gioco, schiero, effetto, anima Vabbè questa non è anche girata, tanto mi hai fatto la PG e non cambiava nulla No, no, non ne hai più? No, I'm not così pirla, vero Uno, due, tre, quattro, sì Aspetta Uno, due, tre, quattro, sì Io adesso così pirla Sì Vabbè, posso comunque fare questo Ed è comunque meglio di avere un coso Quindi l'hai raidato, ok Sì Ed è comunque però un 11 Sì, posso comunque chiamare questa qua Quindi va comunque bene, non è proprio il meglio del meglio Però comunque va bene E prende meno 3 Ok Poi attivo l'effetto, prende altri meno 2 Quindi prende meno 5 nel complesso Va bene E un danno posso piegliermelo E 7 11 11 11 Adesso stand stand e sono felice Cosa chiedo anche Vai Stand and odoro Ma hai mai vinto Non hai mai basso a tanto Allora tu sei comunque un 11 là però Sì Carcava comunque l'1 Sì, sì, sì Ah no, prima al Barossa non potevo farlo Ho detto Sì, non potevi farlo No, ho fatto fuori tutti i danni Ah, ok, sì Prima non potevo farlo Sai che quasi quasi Ma col cavolo Non Pistò sto faccio così Ci provo Il tempo che scottermi Non è un Blau però ricordati Sì, non è un Blau Però se forse fa l'attacco in più Forse Eh ma Hai sai cosa ha in mano? Sì, prendo Guarda come giro quella di sesto Niente Però non ho più pure mi sembra Niente, 7 a 3 Sì ma ha girato male Eccoci Nico sta provando a tentare la scalata Per riuscire a A perdere con dignità Sette a 6 Ultimi tre mazzi E peschi tu Angel Sì, quale dei due è? Quello più brutto Ok Ci provo E tu Nuba L'ultimo mio Beh se riesco a vincere Bene eccoci Angel contro Nuba L'angel più bellino Però è più scarso Dei due che ho È bellino solo per una cosa E basta Perché ho le carte inglesi? No Per lo starter Starter è bellino Starter è bellino Sì E purtroppo Finché non mi fanno uscire il GBT4 Angel Avrei una frase da dire Ma sarebbe uno spoiler No Quanto una casa È tipo No 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 Non abbiamo niente No No Non c'è niente È semplicemente Oh mio io Attention 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 Cambio 4 Ma potrebbe essere Cambio 3 1 2 3 Sono di Quindi inizio io Grazie gioco Se vuoi alzare Ah oh mio io Devo capito Sì Vabbè Tanto è spoiler Non è spoiler se lo sai Se no no Eh ma forse loro che guardano Forse no Ma se sai di cosa stiamo parlando Sai che è spoiler Se no no Quindi vado Guarda vai do anche la PG Apposta Vai Lo faccio o non lo faccio Ho paura Potrebbe essere Una lieve rogna Per te se Ah no Non posso farlo Quindi non fa culo Ah G1 No Non puoi farlo Prendo Crizzo Ci sta A me mi va benissimo Spesco Raido Afrodite Chiamo Varuz Skill È l'unica cosa Che può fare forte Questo mazzo Forte Che può fare di bellino Di bellino Meta a trone Meta a trone A trone Tu conoscendoti Sa già cosa avrei in mano Quindi io faccio così Vanga Non ho capito Vai Niente Skill Gioco a Tamagane Dai È l'unico G2 che ho È l'unico G2 che ho Vecchio mio Non è che posso farci molto Dai Giocata a Tamagane Giocata a Tamagane Cosa vai di? Bravo Vanguard Se va zato Ma prendo Sì Draw Pesco Tocca a me Draw Ho già il G3 Bravo Stride Avanti te Uriel Col 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 La faccio? O non la faccio? Ma no Per me Uriel Ci da pimpi Quindi 26 No Noioso Yeah Crit tutto di qua Crit tutto di qua 21 No 26 26 Con doppio Crit Quindi Sono tradato Sì che quasi quasi potrei anche farlo Vedi qui Lì Vai vai E Uriel Torniamo Stand And Draw Allora Fiamo così Ah così Questo qua Ci sta Bind Ah non vai a fastride Ok Anzi Bind o dietro Dietro Sì perché se lo chiedesse Sono semplicemente le carte con l'arte inglese Sono otto volte più belle di quella italiana Quindi Come dire Vangard Prendo Link break Bind anche quello Che noia questo È vero Allora no PG PG E scarto Baruch Niente Niente Quella non fa niente Stand Draw Queste mi tornano in mano Stride Vado ancora a fare Furiel Richiamo di nuovo Attivo la skill Prende più 3 Può bastare così Vanguard 28 Perché avendo base Quindi 10 25 No Ok Check 1 Check 2 Check 3 Assolutamente niente Tirai fuori un'altra vara Un'altra vara 16 qua Ciao E poi è male E tu ne sparate due Io ne ho sparate tre Mi sembra Vedrò Sì perché non l'ho ridata E non l'ho sparata Stride Sì Lungard Frendo Scatto 1 Crit 5 Niente Niente Check 1 Heal Non parte Non parte Do a 5 A lei Sì Niente Lui prende più 4 Essendo che ha colpito scarti 1 Sì 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 No Ho anche già quello scattare Ho una pescata Casissima in mano Apposta Mi bastano 5 Ma io voglio tenermela Quindi Allora Stand Draw Sai che No No Rennando in mano Slides Uriel Cacchierola però Sto notando una cosina Fare quello che voglio fare Fare quello che voglio fare Fare una cosa brutta Uriel 26 25 scusa 2 Il critico qua Il 5 qua Che mi passa Cosa? L'attacco Sì l'attacco no Terzo Ah Giusto spazzo 9 qua C'è 9 Ecco il crit 16 No Può andare Grazie per avermi dato la terza carta La terza carta Che non prendeva forza Se non ho 3 carte Ah ok Sì 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 Non ho il suo problema Col cavolo Vanguard Skill Tutto bindato 26 Ho la piacere Ho la piacere di vista Ho la piacere di vista Ho la piacere di vista Scarto questa Niente Crittino Allora Tattichello 5 di qua Siguri Tu hai ancora 4 carte in mano Qui No la calamity è già tolta Quindi Siguri ci arrivi Quindi qua 18 No 16 No Stretto Recupero tutto Non faccio stride Sto giro Dopodiché Effetto Suo Devo essere a faccia in su Quindi questa E questa Sono cose che non uso Loro 2 Nei danni Loro 2 Fuori Ok Attivo No Ciel Scambio L'unica carta qua Nella mano Con una carta Nei danni E loro Prendono Ho fatto 3 cambi Quindi 4, 8 3, 6, 9 6 prendono 6 questa 6 questa 6 questa Ah Aspetta Allora che prendo Così si capisce meglio Detto questo Quindi ci vanno Vanguard 5 Lei prende più 3 Quando attacca Diventa un 13 19 Vanguard Vai Niente Crit 5 di qua Ci ho provato 5 Vabbè Il tepio Da qui Non penso Non risvegliono Niente Ci ho provato Yeah 8 8-3 La speranza Di Nico Di chiudere 7-6 Si è appena Infranta Ma almeno Non è finita A 0 E vabbè Ultimi due mazzi Ultimi quattro mazzi Sulle ultime due partite Anche che tu hai un culo della madonna In sti casi Quindi stai Tutto Il problema è che Internello Fai no Gran bluetooth E victorio I'm good E quindi Vabbè Lo facciamo già veloci No dai Lasciamo la suspense per dopo Bene Siamo alle ultime due partite Il grande problema è uno Che ora Non solo restano i miei mazzi Ma restano più complicati Nel caso Nel caso tu non sappia giocarli Quindi Nico è proprio messo A non babà Nico basa la sua conoscenza Del vederti te giocare Esatto Poi questo è proprio bene Esatto E del leggere E soprattutto Altro grande dettaglio Stai giocando Granblue Che come abbiamo pulato anche Sabato in torneo Fa vincere Cioè fa innescare L'altro Ma te no Perché ricordiamolo Perché è presente Ciò che ci stiamo guardando Che io sabato a torneo Ho giocato Granblue E ho fatto innescare I miei avversari Come se non ci fossero domani Madonna Ho perso tutte le partite Tutte perché Con l'altro Vabbè Con uno ho perso Per due volte Io il dissesto Su due partite diverse Apreta vinta Su quell'altro Non ne parliamo Ok Mizzega Però almeno Con le classificate Essendo che abbiamo fatto Per due volte Uno Uno Mi sono portato a casa Cambio due Cambio uno Ok Ok Che non so valutare Tanto Granblue Perché Non so Sottovalutare Non sottovaluto Neanche mia madre Soprattutto perché Sai la mia pazzia Di creare i mazzi Di creare A volte anche delle cose Fatte bene Vabbè sì Ogni tanto Sottovalutare Allora Chissà parte Io faccio Uno Sì E tu fai sei Direi che Parti tu Ma da cosa Ma da cosa Hai capito Cosa hai capito Perché Avrei più puntini La mia faccia del dado Tu aveva puntini La mia no Grazie Ti mancava l'uno O hai trovato un uno più decente Da giocare L'uno più decente Ok Pesco Sono in dubbio Questo 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 Ma no C'è Sette Assolutamente niente Ciao Victor Ciao amichetto Fai Tu sei l'unico G3 che ho Quindi Medocca Anzi unico G2 Per intanto Niente Vangard Quindi Prendo E due Victor Di fila Pesco Guarda io lui Sai In realtà E Sì Golden Anglet 14 No 9 Vai Guarda che bene L'ho fatto Stand Più 5 Ed effetto di Golden Anglet Prende più 3 Esatto Vado Vabbè Ti basta Come se non ci fosse Neanche il B3 Vai Vai Uh Si è messo così Se l'ha messo proprio così E' ottimo Io ho usato lo starter Ma per il momento Per il momento Resti via Quello un moga Quindi non si fa niente Allora Lo fo O non lo fo O non lo fo O fo Fa na Sai che ti lascio Come on baby Show me what you got Anglet E' stato bello Anglet Vanguard No Vanguard Prendo Tutto Vanguard Ci sta Ci sta No E' forza Vanguard a casa Vittorio E' la tua volta Ovviamente Stride No Ritiro le robe A te Non ti serve A niente Quindi Questa E poi fanno Pensare Uuu Si 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 Faccio così Lo sto io Call Anzi Aspetta Call Call Gli do l'effetto Call Quando Risveglio Quella che scelgo Peschi una carta Peschi una carta E' stappo il danno Ok Quindi Detta così Vanguard 14 Ok Che in realtà Aspetta Torna un attimo Indietro Perché se no Si procca il suo effetto E' appunto Si procca il suo effetto Quindi no Puoi risvegliare Cosa sotto In caso Non ha senso Lo fisco Allora far così E' sempre Vanga Comunque Che sono 12 Sì Cambiamo idea Heal che non parte Però 5 14 Vado qua Non si procca l'effetto Perché ti toccaro Una carta 26 Skill di Victor Stand Più 5 Effetto Di lei che gli ha dato Pesco 1 Staple Dando Sono 26 Quinted wall Quinted wall Vediamo 26 1 per passare No No 2 per passare 2 per passare Ma sai che me la tengo anche così 2 per passare Si Andrò Sai che io ci provo E ho provato male Quando è di 5 Non è di 5 Resta Non ha forza E non ha neanche senso Svegliarla Perché lui non dà più 5 Inverisì che dà più 5 Svegliando Quindi Vanguard Skill Stand Dà più 5 Ok Non parte anche l'effetto Ma no Devevi svegliarsi No 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 Sì Non parte niente 5 9 14 19 Su 16 E sulla retro Ciao Puoi andare E stand dove Stand alone Faccio una cosina però Sì Metti quello bello Me lo aspettavo ampiamente Io unio Ma sai meglio fare Sai com'è Vai fare le cion Vado a fare le cion Di mate Ne giochi quanti Uno solo Ok No Per fortuna Allora Se te che stai accendendo Tutto questo casino Mi zega Ti sparerei Allora Non devo per forza Per completato Legend Quindi ok Sì Per attivare l'effetto Devi completare Legend Sì Quindi Devi completare Legend Sì Per il suo primo effetto Quello di ritirare Sì L'altro No Ma l'altro È Prendere più 3 Qua niente Ok È in Legend Non deve completare Legend Ah sì No 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 Ok Pensavo che intendessi 2 Che poteva fare l'effetto Anche senza Scegli in Legend No 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 Da quando fai la Legend In poi puoi farlo No è quello che mi interessava 3 Ok Ok Buki 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 In Di Io ti attacco Attivo Cosa posso fare il turno dopo Molto bello In realtà Molto molto bello Un'altra Dalla mia Da faccio Di te La quinta attacco In vangal Posso pagare il costo Scegli una carta Dalla zona Scarti E schierarla Ok Eccanto al Blast 1 Ritirarla Il costo è Allora Tu qui Tu qui Ah L'avrai usata Per intaccettare Skill Ritiri Il sorbente Sto pagando i costi Sì 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 Posso schierare Allora Devo farti Almeno 11 Per forza Hai il Drago Ghoul L'ombra della rovina Oppure se vuoi Puoi metterne Una dietro là Per pescare Esatto Se non chiudere Mi metto la Banshee Quindi avendola toccata così Sol Blasto 1 E pesco 1 E tu mi fai attaccato Tanto con questo Che è un 23-27 Sì E io sono molto facile Easy peasy Easy lemon Quasi Ciappi E la sorprende Questa è la battaglia È un 15 Non attiva l'effetto Perché non lo Perché non l'hai chiamato Allora Dove vai? Allora Quindi allora Non cambierà Non cambierà Ben niente Posso necessitare Le cose? No no Esatto Se vai qua Esatto Non cambiava Non cambiava Effettivamente Niente Stand and draw Ma che belle cose Che belle cose Che ho visto Cos'altro posso chiedere? Tac Poi Preparati A morire Bello Vale Ok Effetto Di plasma Attivato Detto questo Ma sì Lo facciamo anche Da subito Ma sì Vanguard 13 Effetto Egli da 5 Le 5 Le 5 di sesanda No no È le sesanda Che prende Lo stand non dà a 5 Lo stand risveglia e basta Sesanda risvegliando Se quende a 5 Vanguard 14 Più 5 Ci sta 14 al niente O anzi Sì sì 14 al niente Pace sia Senza supporto Counterblast 1 Effetto di Victor Risveglio 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 Victor da 5 Sedanda prende 5 Vai 26 1 2 Stand E prende altri 5 Heal Non parte 5 E niente Non ci arrivava a fare tutto Ci siamo Sì Sul match di prima Ho fatto triple drive Con Victor plasma Ma non cambiava molto Non cambiava molto Ce ne siamo accorti Tipo 2 secondi dopo Che l'ho fatta Quindi Fa double drive Non fa triple drive Ok Ultimi due mazzi E io qua Mi gioco Rimanendo in tema La mia ultima carta Fa Di solo vedere te Se hai le palle Di accettarlo O meno Ovvero Chi vince questa Vince tutto Perderò male Proprio perché ha fatto questo Vero? Non lo so Ma è la mia unica carta Peccato che non giochiamo Riman Perché è last card Dai vieni qua Vieni qua Dai Non andare via Dai torna qua Dai Hai perso tu? Cosa toccherai? Io rimango sul mio fronte No no Rimango su quella che era nel mio fronte Quindi Celestiale Duo Quindi ultimo match Che allora sarà in realtà L'all in Cioè E beh È la mia unica carta da giocare In questo caso E vuoi mettere? Sei Che di età è un uno anche quello Tra virgolette Perché ne un ettare Vuole essere più figo E lo stemmo di un ettare Deve essere forte Del sei Sono sei anche le punte Quindi non cambia assolutamente niente La mia ultima carta da giocare L'all in Puro Tanto Però se vinco io Devo avere anche io un guadagno No Io ho giocato solo Per il mio guadagno personale Cioè A te non cambia niente Non è un Cambio già Cioè Vinto hai già vinto Se vinci qua Hai comunque vinto Quindi Se vinco qua Non pavi da bere Certo Certo Sì Sì Alzare Signore Qua già Non bene Ma 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 Vedere se tentare o non tentare Però io tento Quindi cambia due E' bello che in realtà questo mazzo va andava bene anche a partire per primo Ma 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 Va Vabbè Vedremo Questo mazzo qua l'avete già visto in opera L'opera Parecchie volte mi sa Anche in live Anche tutto Così In versus E tutto Quindi Non dovrebbe lasciarci problemi Quindi Parti tu Sì Ok Che so Sto modando anche sul giro Tutto Doro Katsua Non metto Quanto mai Sette Vai Sì Niente Però mi va molto meglio Lo 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 In Mano Bro Allora Tu eri quella che Però Si attento che devono essere Cioè devi Se la usi adesso Devi poi buttarne il cimitero Quella che chiami Se mi conveniva Che orribile O meno Sì Non sta a dirlo Tu sei il classico pittone da 12 Ok Così 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 Ma sai che come immagina questo Casus Quindi metterò Rebon Vero? Sì 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 Ma non faccio le fatte Sinceramente Piuttosto Faccio così Rebotti Sette Vangard Prendo Vieni 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 Proprio bene Vangard Eh No Sì Io Vieni Dopo una lego Fitto Lei Possa anche Si Qua Vangard Vieni Cinque a casa Vai Settendo Ok, dita è da dire mazza, su e su, va bene, va bene, da scendere, quindi è giro 1, c'è una carta, la metti lì e ti curi una faccia in su, ah no, che cerca, metto la prima? Quello che vuoi, no no no, qualunque carta che vuoi, la metti lì e devi curare una carta faccia in su, quindi ciò che è giro anche lì buono, mi vedi? Questa è un momento, counter blast 1, scambi mano danno, buttandola in anima, devo prenderlo così scoperto, scoperto, no no, mi sembra di no, no no, metti in anima e scambi mano danno, questo è proprio questo, 9 vanguard, prendo, crit vanguard 5 qua, ok, niente, niente, 15 vanguard, niente, se ne paro, 12 vanguard, paro, va bene, io farei così allora, questo punto, qua, vanguard, skill, torno in mano, counter charge, non counter charge, niente, sol charge, però, 11, vai, check 1, però, porta il vanguard, pesco, check 2, niente, effetto, counter blast 2, scarto 2 con lo stesso nome, stand e prende più 3, vanguard, skill, comunque aspetta, solo last 1, torno in mano, peace, non attivo, non attivo la skill di peace, non attivo solo last in mano, peace, sono 19, no, check 1, check 2, crit, a caso, vai, e che non ce l'avevo, punto, si, 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 non ho immaginato, quando l'hai andata di prenderla in mano, non è che mi ha dato molti dubbi, già, semplicemente ho detto, se non viene su così, non viene proprio, non ce l'ho più, no, quindi c'è bellissimo, a parte non c'è neanche a 4, ma, però dobbiamo fare così, tanto per, più 5, e poi diventano un 16, ok, se ricevo, allora, 21, e 1, 2 pass, e no pass, pesco, c'è lo di qua, ok, c'è lo di qua, allora, questo è un 13, quello è un 12, quindi che io diamo di qua, i 5 diamole di qua, Tu non hai più forza, non hai fatto forza, non cambia niente, crit anche di qua, 12, 5 e pesco, 16 con crit, basta una 5 e faccio 21, perché questa è qui, scrivo quella che mi sta avvenendo un dubbio che andai contro una casa, di cosa, fai vedere qual è, questa, è il check che ho fatto adesso, hai dato pescata e crit, hai dato pescata e crit, ok, e se no è colpa mia, per forza, tu o no è sicuro, Vanguard, 12, 13, no, Vanguard, 11, no, Vanguard, skill, solblast 1, balzo questa, effetto entra in continuo, effetto prima dei crit, counterblast 1, torno nel mazzo, cerco una pistola, aggiungo la mano, perché sceglie la carta che torna in mano, poi, attivo l'effetto della pist che torna in mano, controblast 1, pesco, ti mostro 3 pisti dalla mano, e stacco il danno, 11 Vanguard, check 1, tutto Vanguard, check 2, niente, cura, va bene, non funziona, ma sono 5, 2, effetto, di limit break, scarto, fammi vedere se può scattare le vittorie o scattare quelle, no, scatto 2 pisti, stand e prende più 3, ok, Vanguard, facciamo così così, non lo perdo io, quindi è un proviso, 14 col crit, su 11, e sono 2, 2 pass, ci provo, niente, peggio ragazzi, eh, in via tutte le vittorie, no, scatto,opi, le trattano, ecco ci 1500 amm, se è un targeting digitale, non è quello che giudicato, non è parecchio, un momento di investimento, mi sono under, quindi la nuova serie, nel studente è un rigore, che SECON duck, controllate le vittorie, hai comunque da visto, con la strategia per Taglare, che è un iniziale,ций, obiettivo, si può scattare i tipi di test riscogliere, la piccolare, ovvero, gli ultimi di della폰, tutti sono iniziale, inizi col gτό, inizzi, ad ogni tempo che ho passato từnghi, Tu devi partire facendogli il cuore perché non ce l'hai, però appunto non... Non dai il 5 se non hai il cuore con lei danni, eh? No, 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 lo so, ma... Però il più 1 te lo fai. No, esatto. Vedo il più 1 in che senso in un momento, perché è la mia ignoranza pura. Lei si sta giù pensando a Rami, a Raffael, Counter Blast 1, metterla prima nei danni, chiami una dei danni e sai il nome uguale, gli da più 5, se no comunque un più 1 te lo fai. A Michael? Sì, mi piace. Mettere prima carta in mazzo alla danni, ok. E... Potrebbe essere la cura che potrebbe essere messo nei danni. Esatto. No, era quella la mia intenzione. Sì, sì, perché là non ha bisogno... Ok, Michael. Quindi, giro 1. Metti da prima nei danni e chiami uno dai danni. Che culo! Gli dai anche più 5, quindi perché è arrivato a Raffael. Sì. E... Dove stai portando su dal vangolo? No, no, dove vuoi, dove vuoi. Che culo, punto. E 26 vangolo. PG. Esatto, ti ho detto, tira fuori dal PG. E scarto... Scarto Raffael. Ok. Niente. Niente. Kill Trigger. Kill Trigger che parte. Vabbè, una led, ma non penso proprio di doverla utilizzare. E i 5. 7, questo è un 9, quindi è un 16. 7, 13, 18. C'è. 21. Ed è la fine del... Della battaglia, del turno. Del turno va bene. Quello è un 9, perché hai una terapena di danni. Quindi sono 12, 9, 21. Che falle! Attacco e attacco. Io vado a fare così. E vado per la led. Aspetta, fammi perdonare in tanto. 1, 2, 3. Quanto che altro c'è lui non me lo riesco ad... Vado a fare così. Ora. Direi. gioco lei, effetto della legion, mi imbalza in mano semplicemente per portare un tarcetto Quante carte hai in mano? 3, l'idea che viste 14 vangard 5 vangard passa, vai 5 litro all'oretra skill di katsua questa, vado a cercare copia ma mi sa che non ne ho più esatto devo alzare, però si attiva rick, quindi counter charge, soul charge, attivo il suo effetto usca 3,5 vangard 19,25 se non giravi 5 ce l'avevo per pararlo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti